Storie di un po' Storie di volontariato Vicentino Vorrei porre da subito l'attenzione su questo particolare accento che cade proprio sulla lettera A A dimostrazione dell'importanza della volontà che è la chiave dell'essere volontario Il vero e proprio mettersi in gioco È un programma che nasce dalla collaborazione tra il CSV, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza E di TVA Vicenza Il CSV offre tantissimi servizi proprio a supporto delle associazioni Ed è anche molto importante per i volontari Oggi andremo ad affrontare un tema altrettanto importante Quello dei giovani e del volontariato E quindi ho con me in studio Luca Rigoldi Recentemente vincitore del titolo italiano di box pesi super gallo E con noi anche Anna Baron, vicepresidente dell'associazione Non dalla guerra Benvenuto a voi e grazie per essere qui in studio con noi oggi Grazie, grazie a voi Grazie, buongiorno Come sempre poi abbiamo la nostra immancabile Maria Rita Dal Molino Ormai la conosciamo, direttore del CSV di Vicenza Grazie per essere qui cara Rita Grazie a te Anna È proprio con te che voglio iniziare Abbiamo accennato di questo argomento Il tema i giovani e il volontariato Rita, secondo te i giovani come vivono le emozioni del volontariato? Possono vivere interessanti emozioni quando riescono a conciliare il loro tempo Degli impegni di studio, di lavoro, di amicizie, di sport E nello stesso tempo credo che sia fondamentale per loro poter fare queste esperienze Noi siamo abituati a parlare dei giovani Ci chiediamo spesso se i giovani possono fare volontariato I giovani lo possono fare ma a loro modo Noi dobbiamo cercare di introdurli in questo mondo come vogliono loro Siamo spesso impegnati su temi che riguardano il digitale, la sostenibilità, il futuro Vi hanno letto anche ultimamente sui giornali Anche le assemblee di confartigianato, il festival del futuro Si parla di giovani, i giovani perché poi sono la continuazione di quella che è la generazione Quindi veramente focalizziamo sul futuro e su quello che può dare un giovane Un vero e proprio accompagnamento mi sembra di capire al mondo del volontariato Questo è quello che CSV quindi si propone di fare Anna, iniziamo ad entrare proprio nel vivo del volontariato e della vostra associazione Voi di cosa vi occupate come associazione Non dalla guerra? Allora, Non dalla guerra è un'associazione di promozione sociale, indipendente e giovanile Ci piace definirci giovanile, è una caratteristica che ci accompagna da sempre Infatti da quando siamo nati nel 2016 abbiamo sempre cercato di far sì che il direttivo Avesse meno di 30 anni, attualmente la nostra presidente è Noemi Rossi e ha 23 anni appunto Noi ci occupiamo soprattutto dell'organizzazione dei campi di volontariato in Medio Oriente E poi di organizzare eventi di sensibilizzazione per la comunità locale Sul tema delle guerre e dei rifugiati e delle migrazioni chiaramente Il nostro scopo principale è proprio quello di riuscire ad entrare nelle scuole Incontrare gli studenti, i giovani ragazzi perché è da lì che si parte Si può far sì che parta la cosiddetta educazione alla pace Uno dei nostri obiettivi principali Nel corso degli anni abbiamo incontrato centinaia, migliaia di studenti E nemmeno il Covid è riuscito a fermarci Perché siamo comunque riusciti ad organizzare degli incontri online con le scuole Anche nel 2020 E siamo riusciti ad incontrare ben circa un migliaio di studenti Questo ci rende davvero molto orgogliosi Sicuramente una cosa che ci contraddistingue è il fatto che focalizziamo l'attenzione molto sull'incontro Non solamente sull'incontro con le famiglie di rifugiati, di siriani, iracheni che incontriamo in Giordania Ma anche sull'incontro nel locale Quindi il fatto di incontrare i cittadini, i nostri familiari Raccontare quello che abbiamo visto in Giordania Quali sono gli effetti della migrazione, delle guerre sulle persone E raccontare loro questo Per renderli consapevoli e cercare di sviluppare anche un pensiero diverso Un pensiero critico che li possa far ragionare su questo tema Di cui si parla molto poco o se ne parla spesso anche in modo sbagliato Ecco anche perché appunto probabilmente i giovani riescono ad assimilare molto bene questi valori Luca, io so che infatti uno dei tuoi sogni è proprio quello di parlare di quotidianità, di valori con i giovani Beh assolutamente sì, io faccio uno sport molto duro e molto complesso Il pugilato è uno sport che mi ha insegnato tantissimo Mi ha dato grande possibilità e opportunità nella mia vita E credo che questa opportunità che io ho potuto avere posso aiutare molte persone Posso aiutare soprattutto i ragazzi giovani Io credo che... ho lanciato lo slogan i tuoi sogni chiama gli obiettivi Quindi credo che per i giovani inseguire i loro sogni sia un aspetto fondamentale Dar molto valore a loro è un aspetto incredibile E credo che loro se ci mettono determinazione e continuità possono raggiungere veramente traguardi Stratosferici, immaginabili come anche io nel mio piccolo sono riuscito a realizzare nella mia carriera sportiva Far questo all'interno delle scuole piuttosto che in altri contesti Aiutare i ragazzi magari che sono in difficoltà sotto profilo personale, familiare E' un obiettivo che lo sport mi ha dato La mia è partita come passione e poi è diventata una missione Una missione personale, quella di riuscire a coinvolgere più ragazzi possibili E dare più risorse possibili per aiutarli Ecco, questo è una cosa che ci tengo tantissimo E cerco di farlo ogni giorno nella mia attività di sportivo e di uomo Perché credo che i valori dello sport e dei campioni non siano solamente all'interno nel campo gara Ma sia anche poi nella vita di tutti i giorni E quindi da qui il tuo progetto I'm My Dream Se io sono il mio sogno, giusto? Sì, è nato il progetto I'm My Dream proprio in piena pandemia Quando mi sono adoperato ancora di più di quanto facessi prima Perché già dalla mia tenera età insomma ho sempre fatto l'animatore in parrocchia Piuttosto che tante altre attività Io ho un fratello tra l'altro che ha qualche anno meno di me E che vive in Congo, è un missionario laico E quindi di famiglia abbiamo già questa predisposizione dell'attività sociale Qualcosa di intrinseco quindi, mi stai dicendo Sì, e quindi la cosa che mi piaceva fare in quel momento di difficoltà Non era tanto capire come io potessi uscire da una situazione di difficoltà Dove tutti noi vivevamo un momento difficile Ma era quello di mettermi a disposizione di chi veramente aveva ancora più necessità di me E quindi nasce il progetto per i giovani I'm My Dream Nel momento in cui io sentivo la necessità di avere una guida forte Il mio maestro mi mancava perché poi siamo stati lontani diversi mesi Io dovevo trovare quel sistema per aiutare i più giovani A tenere anche loro alta la motivazione E cercare una situazione che li aiutasse a mantenere i loro sogni E diventassero obiettivi Ecco, questa era una cosa che avevo fortemente dentro di me Sono riuscito a realizzarla Sono riuscito a realizzarle grazie a tante persone che sono riuscito a coinvolgere E grazie anche ai CS che mi ha permesso di realizzare insieme alla Regione Veneto Questo progetto, questi video Che per me sono stati veramente una grandissima soddisfazione personale E questo è un bellissimo messaggio assolutamente da dare ai giovani Anna, torniamo appunto al mondo del volontariato Secondo te quali sono le leve che possono avvicinare un giovane al mondo di cui tanto stiamo parlando Quello del volontariato Sicuramente a volte non è facile avvicinare i giovani al mondo del volontariato Innanzitutto è necessaria una forte motivazione personale Una propensione E forse anche una spinta familiare da certi punti di vista Però negli anni abbiamo capito come non dalla guerra Quanto sia importante partire direttamente dalle scuole Per lanciare questo messaggio Quanto il volontariato possa effettivamente cambiare la vita delle persone Ma non tanto nelle cose complicate Ma proprio nelle cose semplici della vita E una cosa molto importante è sicuramente lo sviluppo di un pensiero critico diverso E una cosa importante è quella di riuscire a parlare la stessa lingua dei giovani E quindi per questo voi siete anche molto giovani nella vostra associazione Proprio per avere un confronto diretto? Esattamente sì Infatti riuscire ad entrare nelle scuole quando hai 20 anni, 21, 22 E parlare con i ragazzi di 15, 16 anni sicuramente aiuta molto di più a mettersi allo stesso livello E quindi è da lì proprio che si riesce a creare una base solida Delle radici solide da cui poi si possa far nascere qualcosa di nuovo Una vera e propria empatia mi sembra di capire Luca te hai portato quindi avanti molti progetti non solo nel Vicentino ma anche in Italia Te invece come ti sei avvicinato quindi a questo mondo? Oltre abbiamo capito quindi a un discorso familiare di famiglia di intrinseco proprio tuo Diciamo appunto lo sport mi ha dato delle grandi opportunità e possibilità Io credo che lasciare il mondo in un posto migliore sia un po' l'obiettivo Che un po' tutti noi dovremmo avere come missione Quindi anch'io cerco di entrare nelle scuole Entrare in tante attività Che possano poi essere di aiuto e di supporto a tanti giovani Soprattutto nei momenti Nella fascia di età dei teenagers Dove i ragazzi hanno un attimo di disorientamento Quindi si trovano in difficoltà Attraverso uno sport anche diciamo un po' duro Come il pugilato Entrare dentro e far vedere anche dei video molto emotivi e forti Gli aiuta subito a catturare l'attenzione Quindi essendo io un fratello maggiore per loro è più facile poi comunicare tutti quelli che sono I valori che lo sport mi può dare Ecco io li ringrazio tantissimo perché io posso dare a loro tanto ma io ricevo tantissimo E quindi per me è uno scambio reciproco di idee, di informazioni E anche appunto di ricerca ancora di più di obiettivi Ecco è simpatico infatti vedere questa contraddizione un po' tra quello che è il tuo sport E poi i valori dello sport che te vuoi insegnare In realtà appunto non è così, non è uno sport di violenza il tuo No assolutamente no Anzi La violenza è un aspetto diverso Nel pugilato ci sono delle regole ben precise E siamo entrambi che vogliamo fare quel match E quindi insieme decidiamo di mettere in piedi un evento e di confrontarci Ecco è un confronto molte volte più che con l'avversario con se stessi Questo è il bello che mi piace raccontare ai ragazzi Perché nel momento in cui riesci a vincere delle paure personali Riesci poi a raggiungere veramente dei risultati eccezionali Ed è questo quello che io credo sia stata la forza anche nel mio cammino sportivo e anche poi di uomo Quindi il dialogo come diciamo soluzione e come metodo di approccio verso gli altri Rita, cosa dici? Siamo arrivati un po' alla conclusione Vogliamo riassumere questa puntata con quelle che secondo te sono le parole fondamentali che sono emerse Sì, una bellissima puntata e ringrazio molto i nostri ospiti di oggi Abbiamo parlato di scuola e volontariato Soprattutto la parola incontro che vale per entrambi Perché è fondamentale l'incontro con le nuove generazioni Ma incontro anche con noi stessi per essere come diceva Luca Io sono il mio sogno E quindi valorizzare questo aspetto E l'educazione è importante Come ha detto Anna, l'educazione, la pace, il senso civico e la motivazione E poi il linguaggio dei giovani certamente Non dobbiamo pretendere noi, nelle nostre generazioni, insegnare ai giovani Come approcciarsi al mondo del volontariato Loro trovano la strada e sanno cogliere gli spazi giusti Vanno accompagnati, come abbiamo detto all'inizio Ma certamente ce la faranno Anche perché sono il nostro futuro E quindi è indispensabile, direi, questo lavoro valoriale Assolutamente Un lavoro che, come abbiamo già detto tante volte nel mondo del volontariato Va fatto insieme, unendo tante forze Luca, Anna, io vi ringrazio per essere rimasti qui con noi Per averci raccontato un po' quello che è il vostro modo di vedere il volontariato Rita, grazie mille, come sempre, anche a te per i tuoi interventi preziosi Ringrazio tutti voi che ci avete seguiti finora Vi ricordo che potrete vedere l'intero programma di Azioni Solidali nel sito di CSV Grazie mille e a tutti, arrivederci Grazie mille e a tutti